230 milioni di spesa, 13 milioni in più rispetto al 2014 e 234 assunzioni di cui 69 medici ed altre 21 procedure attualmente in corso per un totale di 2.231 dipendenti e in più 13 primariati di nuova nomina e altri due in fase di trattativa con eccellenze a livello nazionale che sono entrati nella squadra rispondono così al mandato ricevuto dal direttore generale in fase di nomina in tempo di bilanci quello della sanità pubblica riveste per i cittadini un'importanza basilare per cogliere la differenza che passa tra il percepito ed il reale soprattutto per quello locale dove in questi mesi l'attenzione si è spostata sul tema ospedale unico esercizio molto tecnico e molto politico ma poco pratico se pensiamo alla richiesta continua di servizi e prestazioni che i cittadini richiedono altra novità è il nuovo atto aziendale che finalmente pone le basi per la nuova organizzazione e poi praticamente i nuovi primariati ecco per arrivare a questi risultati c'è tanto lavoro sommerso tanto lavoro di tante persone che si impegnano ogni giorno per questo è importante anche ringraziare tutti quelli che si impegnano per questo risultato fondamentalissimo perché diciamo che il mandato iniziale l'obiettivo iniziale è stato quello di lavorare con uno spirito di squadra condividere le difficoltà quotidiane che ci hanno dato fiducia per lavorare quotidianamente per il futuro e superare le difficoltà ma tornando al tema ospedale unico dove come la parola fine dei giochi la mette il governatore delle Marche Luca Ceriscioli all'inizio del prossimo anno daremo l'incarico per progettare questo ospedale nell'area di Muraglia così come si è deciso insieme ai sindaci quindi la partita va avanti, era programmata da tanti anni anche questa in regione ma finalmente la realizziamo e credo sia il giusto completamento dopo aver però rafforzato molto la struttura in termini di personale, di servizi, di qualità delle persone cioè prima abbiamo curato il contenuto, portato fino in fondo quel progetto e oggi possiamo guardare con più serenità e più forza il contenitore. Oggi è il giorno del bilancio, guardiamo risultati e attività raggiunte nel 2016 un anno importante secondo la grande crescita di quello che è l'ospedale si è portato fino in fondo il trasferimento delle attività previste su Fano è stato un impegno che era di tanti anni fa ma è realizzato, nel giro di pochi mesi è stato fatto segno della coerenza con cui si porta avanti il progetto quindi il 2017 parte da premesse molto forti e quello che ci aspettiamo tutti quanti sono i risultati quindi vedere i numeri che crescono, maggiori prestazioni, più risposte ai cittadini all'insegna della qualità e della quantità e ovviamente il 2017 anche finalmente tutta la partenza del percorso della nuova casa di questa struttura che oggi vive su tre impianti ha bisogno di andare in unico luogo per esprimere al meglio anche da questo punto di vista le proprie potenzialità di questo ne giova tutta la regione